questi playoff noi ancora ci dobbiamo guadagnare non è ancora matematico se eravamo venuti qui per cercare di vincere prendere punti ne abbiamo preso uno che va bene uguale e noi purtroppo abbiamo passato il periodo diciamo della ripresa a gennaio febbraio dove abbiamo perso punti importanti ci dovevamo assestare però penso nell'ultimo mese mese e mezzo al di là del risultato le prestazioni ci sono sempre state quindi magari con un po di fortuna nel corso delle partite potevamo avere un po qualche punto in più però insomma non ci lamentiamo abbiamo trovato la quadratura del cerchio e adesso chiunque incontriamo l'incontriamo a testa alta e sappiamo di essere un avversario ossico per tutti